Che volete? Una camicetta a mezza madre. E quanto volete spendere? Vediamo quello che ci faccia, dove ne parliamo adesso? Prego, accomodate. Ecco, abbiamo queste camicie invernali, oppure... Eh, signore, a lei quale ci abbiamo? Vengo subito. Ecco, questa d'esempio mi sembra molto adatta alla sua personalità. Quale personalità? Intendevo dire al suo aspetto fisico, alla sua persona. No, con le maniche costa. Allora, vediamo un po'. Sono caduto dal motore. Per me ti piace questo? Bello. Damolo qua, uno stanzino. Di là. Grazie. Ehmè, non è bellissimo? Mmm, ti sta proprio bene. Se non ci piaceva a lei un mancattavo. Vero, dico. Quanto è? 84.000. Ah, ti hai stare a mechia.